Ciao a tutti raga, bentornati sul nostro canale. Oggi stiamo salendo sul Monte Girella, sopra Ascoli Viceno. Abbiamo con noi la tenda, andiamo a dormire in vetta. Circa 1800 metri. C'è qui con noi squabbone. Appena arriviamo, ci cambiamo, ci prepariamo e partiamo. A dopo. Ciao. È quasi il tramonto, è un po' tardino. Siamo partiti un po' tardi da Ascoli. L'obiettivo di oggi è salire in vetta, montare una tenda, ci godiamo una bella alba e vi riscendiamo. Siamo appena partiti, la salita iniziale è ripida. Per chi conosce la zona, si costeggia la seggiovia. Oppure c'è un sentiero sulla destra che passa vicino a un laghetto. Io ho 20 kg di zaino, infatti sto già a pezzi. Davide ha altrettanti kg. Tra poco il tramonto, sui Sibillini. Prima notte in tenda, al freddo. 20 kg. Scalare. E sì, ti 20 kg. Raga, guardate chi c'è. In fondo piccolino, il dio degli Apennini. L'ultimo step, un po' più ripido. Dobbiamo trovare il posto dove allocarci. Dove mettere la tenda. E si va. Guardate, guardate che spettacolo. La notte che sta arrivando. La luna che ci fa compagnia. Abbiamo trovato un punto in piano. Ci saranno 20 cm di neve almeno. Adesso togliamo un po' di neve per fare una base comoda. Poi mangiamo qualcosa. Ragazzi, tenda messa. Ora mettiamo un tappetino isolante dentro e due tappetini per dormire. Sistemiamo i sacchi a peli e iniziamo a prepararci qualcosa da mangiare. Quando c'è una bisogno, c'è una bisogno. Tra un'oretta e mezza ci facciamo un po' di riso, i porcini. Abbiamo anche il riso con i gamberetti. Cremoso. Cremoso. Entrata tutta neve. Raga, mani nude è qualcosa di veramente, veramente doloroso. Incredibile, raga, si è acceso. Questo qui è un fornelletto della Jetboil. Ne vale davvero la pena. Anche con queste temperature funziona benissimo. Acceso al primo colpo. Ricordiamo, siamo a 1800 metri di quota. L'acqua bolle. Risotto. Ai funghi porcini. Più cremoso. Prende l'acqua calda. Io spero funzioni sta roba, eh. Vedete il riso? Ma si assorbe tutta l'acqua. Non so se abbiamo sbagliato qualcosa. Non è molto cotto il riso. Però il gusto è buono. Approvato. È un brodo con riso. Prossimo con i gamberetti. Lo cuociamo direttamente nel pendolino. Però dai, com'è cena? Ci si adatta. Con sopravviventi. Siamo a sopravvivere. Cambiata strategia. Mettiamo direttamente il riso con l'acqua nel pendolino e lo facciamo bollire. Ragazzi, la situazione è questa. Abbiamo cotto un pochino. Mi si è spezzato il cucchiaio. Guardate che disastro. Buona cena. Noi mangiamo così. Vicini vicini. Che è cremoso e cremoso. Poi abbiamo sbagliato a cuocerlo. Infatti si è solidificato sotto, si è attaccato al pendolino e abbiamo fatto un casino. Scusa. Occo. Sto mi dando male. Tentativo numero due. Ora mettiamo il riso con i gamberetti. Speriamo sia la volta buona. Mo' vasta eh. Speriamo di mangiare. Speriamo di mangiare, seriamente. Risultato, il riso con i gamberetti? Top. Buono. Devastante. Ci siamo sul punto giusto, si. E' buono, dai. Cenetta. Sistemata. Rimediata. Diamo una pulitina e ci mettiamo nei sacchi a pelo. Sono le tipo dieci e mezza? Sì, dieci e venti. Non c'è niente di meglio di un poco. Sei l'amaro del capo? No, simile. È un amaro alle erbe. Che ci scalda e ci fa bene al cuore. Alla salute ragazzi. Alla sopravvivenza. Buono è buono eh. Buono. Ragazzi, ci siamo messi nel sacco a pelo. Nella culla. Si sta da Dio, mamma mia. Freddo non si sente. Siamo ben isolati dal suolo. Noi vi diamo la buonanotte. Buonanotte a domani. Sono le 3.45 di notte. Il vento ha girato un pochino. Ogni tanto la tenda si muove. Mi sono affacciato. Non c'è una nuvola. Proviamo a riaddormentarci. A dopo. Buongiorno. Sono le 6 e un quarto circa. È stata un buon... Una buona dormita. Fisciatina. Temperatura attuale prima dell'alba. meno 5. Ecco le prime luci dell'alba. Ok, è partito. Facciamo sciogliere la neve. Ci facciamo qualcosa di caldo. Mamma mia. Guardate, ragazzi. Che bello. Meno 5 gradi tutta la notte. La tenda si è comportata molto bene. Traspirato benissimo. Non ha fatto condensa. Sai che è quello della Decathlon portati al limite. Penso che 5 gradi in meno non li avrebbero retti. Ci siamo riusciti a isolare bene dal terreno con i materassini. Ora prepariamo la colazione. Poi andiamo sulla vetta a vedere l'alba. Ecco la tenda. La lasciamo qui per ora. Non scappa. Biscottini della Grange Reale. Top. Guardate. Guardate che bello. Guardate che spettacolo. Guardate. Marche e Abruzzo. La nostra tenda. Un puntino nero in fondo. In fondo c'è il Monte Conero. Non so se si vede bene. Ma si riesce a vedere la costa della Croazia. La visuale è ottima. Ottima. Ecco il sole che esce. Bellissimo. Un puntino nero in fondo. 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 qui dal monte girella è tutto e adesso torniamo alla tenda smontiamo tutto e si torna a casa eccoci tornati alla tenda adesso sistemiamo tutto si pulisce l'endorino l'ultima pulizia che finiamo a pulire anche queste cose e si parte ciao casetta manca poco al parcheggio volevo ricordarvi che abbiamo utilizzato attrezzatura della decathlon abbastanza economica non abbiamo utilizzato attrezzatura tra costosa su una tenda da 200 300 euro anzi la tenda a te che trova nella trovate a 50 euro poi vi metterò il link nella descrizione anche il sacco a pelo 70 euro quindi è accessibile a tutti come cosa ragazzi eccoci alla macchina stiamo tornando a casa è stata una bellissima esperienza ci è andata molto bene per il tempo mi raccomando attrezzatevi sempre noi non mancava nulla noi vi ringraziamo per averci seguito ci vediamo nel prossimo video del canale vi ricordo di iscrivervi lasciare like se il video vi è piaciuto commentate entrate anche nel canale telegram per magari unirvi alle nostre avventure inoltre ragazzi vi lasciamo in descrizione il nostro link amazon con tutta la nostra attrezzatura che noi utilizziamo di conseguenza vi consigliamo ci becchiamo al prossimo video mi raccomando like commento e iscrivetevi a presto Ciao